Ma è un genio, raga, ma chi è? Non lo so! Gabbia Pizz! Dopo le andiamo a calcio! Dio, fai il loro gioco, anche loro ieri hanno pagato per prendere, infatti... Porca troia! Ma sì, ma infatti dobbiamo andare, dobbiamo farlo noi! Tanto siamo tanti, cioè... Pago, eh, Yuri! Pago, pago! Caro, come cazzo guidi? C'è stato un incidente, po', anche di prendere... Prendo contro Amaro, caro! Eh, ok, non devi prendere altri articoli! Inizia a guidare meglio, dai! La faccia quadrata! Inizia a guidare... Ehi! Tu c'hai la faccia di cazzo, e quindi? Dai, 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 vai! Mi prendi! Chi ha 102, capito? Tu mi prendi e mi succhi il cazzo, se vuoi! Melato di merda! Ah, solo questo puoi fare, prendere e succhiarmi il cazzo, dai! La macchina di merda, buffone di merda! La faccia di merda, bambino del cazzo! Succhiarmi il cazzo! Scendi, vieni a succhiarmi il cazzo, scendi! Vieni a succhiarmi il cazzo, dai! Ecco! Ho fatto uno! Che succede? Aspetta! Qua sei mortale? Morto, dai! Non è immortale, è morto! Non è vivo, zio! No! Ho ucciso Trippa! Qua sei mortale? È morto, è morto! Aspetta, ti vado a lootarli! Aspetta, ti vado a lootare! Allora, coglione uno! Vieni qui, dammi qua! Coglione due! Dammi qua! Dammi qua! Grazie ragazzi, alla prossima! Zio, ma questo che dice GG che speri da l'auto non è sceso letteralmente a sparare a caso! Dai, andiamo con sta macchina! Che da prendere Trippa! Aspetta! Ah, è vero! Prendi Trippa! Prendi Trippa! Tanto... L'infrazione l'hanno iniziata loro che hanno sparato per primi senza motivo valido! Quindi...